Quattro cantieri a Gandellino, la sistemazione della valle del Pesel, un tratto di marciapiede sulla provinciale, il collegamento pedonale tra Bondo e Gromo San Marino e l'allargamento dalla strada per il cimitero. Interventi in vista a Valgoglio, si investe sull'illuminazione a LED, si consolida il Corren del Presi, opere sulla parte alta del Torrente Re. Ponte Nossa, viaggio alla sorgente Nossana, tra le più importanti del territorio Lombardo, con una portata media di circa 600 litri al secondo e con un bacino di utenze di circa 350.000 abitanti. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Questa sera ci occupiamo di opere pubbliche in Alta Valle Seriana, Gandellino, tra i già avviati quelli prossimi a partire, l'amministrazione comunale e al lavoro su quattro cantieri. Nicola Androletti ne ha parlato con la prima cittadina Flora Fiorina. È una primavera intensa dal punto di vista dei lavori pubblici sul territorio di Gandellino. A iniziare dal centro del paese, dal capoluogo, un intervento atteso di regimazione delle acque per risolvere un problema che si verifica spesso quando ci sono nubi fraci. Sì, effettivamente era un'opera che aspettavamo da tanto tempo, per la quale era necessario recuperare dei fondi e recuperare soprattutto parecchi permessi perché transitavamo su terreni privati, avevamo bisogno dell'autorizzazione per lo scarico delle acque nel fiume Serio. Quindi era un lavoro molto, molto complesso ed era la regimazione del peser e poi la messa in sicurezza dello scarico di coste acque nella Val Fontanina. I lavori sono partiti, il tempo di realizzazione doveva essere 60 giorni, le condizioni atmosferiche purtroppo ci creano un po' di problemi, però noi sappiamo anche che una volta le opere sono partite appena il tempo ci permette, visto che l'impresa lavora anche quando piovigina e quindi dovremmo portarle a termine. Abbiamo l'altra opera che è stata iniziata, il marciapiede a sbalzo sul fiume Serio, marciapiede gravemente ammalorato, più ammalorato quando sono iniziati i lavori che abbiamo potuto evidenziare rispetto a quando pensavamo di iniziare l'opera. A dei modi verrà un bel lavoro perché mi metterà in sicurezza un transito sulla provinciale dove i bambini vanno a prendere il pullman, dove ci sono negozi, ristorante, parrucchieri, insomma è un pezzetto di strada che viene percorso parecchio. È già partito anche la sistemazione dell'allargamento della strada cemitoriale, questo è un vecchio accordo che era stato fatto dalla passata amministrazione, anche per cui bisognava recuperare circa 30.000 euro, risparmiando siamo riusciti a recuperarli e anche adesso manteniamo un accordo che era stato fatto dalla passata amministrazione con la parrocchia. Parte il percorso pedonale da Bondo fino alla chiesa di Gromo San Marino, un percorso anche questo che si aspetta da più di 20 anni e il quale darà sicuramente, aumenterà la sicurezza per i nostri bambini che vanno alle scuole e che vanno alla parrocchia, in chiesa e così via. Ricordiamo come è stato possibile realizzare quest'opera. Questa è un'opera compensativa, l'Enel doveva fare un grosso intervento sul nostro territorio per cui abbiamo proposto all'Enel di aiutarci a realizzare quest'opera. Il terreno ci è stato donato da un cittadino, che non è di Nandellino però è di un paese di mitrofo e è stato ben felice di poterci aiutare, per cui non abbiamo pagato il terreno, non paghiamo l'opera assolutamente, l'unico costo che il Comune ha dovuto affrontare è il costo di progettazione. E anche a Valgoglio l'amministrazione comunale ha il lavoro su alcune opere pubbliche. Facciamo il punto sui lavori pubblici nel territorio di Valgoglio, iniziamo da due interventi di cui sono state aperte le buste proprio oggi, quali sono? Allora, sì, oggi sono state aperte le buste che sono una è il Coren Presi su Soprano Vassa, sono state affidate e praticamente hanno partecipato dieci ditte e dieci ditte per l'illuminazione che verrà praticamente assegnato a breve, penso nell'arco di un mesetto, che l'illuminazione sono tre lotti, partiranno fra circa un mesetto per il primo lotto e poi verranno affidati gli altri due per un lavoro circa di 170 mila euro. Per quanto riguarda il Coren del Presi, di che importo stiamo parlando e in che cosa consiste l'intervento? Il Coren del Presi è l'importo di 100 mila euro e anche quello verrà affidato a una ditta, dovrebbe partire anche quello nel giro di un mese. Che cosa verrà fatto? Il lavoro praticamente non viene più debolito, ma viene praticamente imbragato da una rete e fissato con dei puntoni per tenerlo lì bloccato. Lavori particolari, in alto, quindi servirà anche l'elicottero? Sì, infatti l'intervento dovrebbe essere tutto un elicottero perché la strada non ci arriva. Continuano anche i lavori sul torrente Re, il corso d'acqua che attraversa praticamente il paese. Sì, infatti il primo intervento è già stato fatto con un contributo dalla comunità montana che abbiamo fatto tutta la parte bassa. Adesso si deve fare l'intervento alla parte alta che abbiamo avuto un contributo dall'Enel di 15.000 euro e faremo la parte alta, anche quella che amo di farla più brevemente possibile per anche il tempo perché in questi periodi arrivano le inondazioni esagerate. E vedremo. Che cosa verrà fatto? Praticamente anche lì c'è tutta la recimazione del fiume. L'acqua praticamente ha sconvolto un po' tutto il letto del fiume e va sistemato tutto, insomma, ecco, aggiungendo anche del calcestrusso per bloccare un po' ma, insomma, queste inondazioni, ecco. Diminuiscono i furti sul territorio bergamasco ma non nelle abitazioni. Sentiamo Vradmi Lazzarini. In occasione della festa dell'arma i carabinieri hanno diffuso i dati relativi ai reati denunciati nella bergamasca nei primi cinque mesi dell'anno. Il dato più allarmante è la crescita del numero di furti nelle abitazioni. Rispetto ai primi cinque mesi del 2017 sono cresciuti del 14,5%, passando da 1.474 a 1.687. In media si tratta di 4,6 furti ogni giorno. Sono invece diminuiti tutti gli altri tipi di furti tranne quelli di ciclomotori e motocicli che hanno subito un'impennata. I furti d'auto sono diminuiti del 25,9%, i furti sulle auto in sosta del 16,8%, i furti nei negozi del 22,1%, quelli con destrezza del 21,9% e gli scippi del 6,7%. Le truffe informatiche sono state bene 2.453, in calo comunque del 18% rispetto al periodo dell'anno precedente. È sceso anche il numero delle truffe agli anziani, da 407 a 343, ma solo in 7 casi. Nell'ultimo anno è stato rintracciato l'autore. Le persone arrestate dai carabinieri nell'ultimo anno sono state 507 e quelle denunciate a piede libero 5.123, con lievi flessioni rispetto all'anno prima. Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio, i carabinieri nell'ultimo anno hanno sequestrato 118 kg di sostanze stupefacenti. Il direttore e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, questa sera sarà a Crusone con un incontro promosso dall'Associazione del Testimone e dall'Avis di zona, dal titolo Farmaci e il rischio abuso. Presenteranno l'incontro Daniela Stabelini dell'Associazione del Testimone e Gian Giacomo Borelli in rappresentanza dall'Avis di zona 4. La serata avrà inizio intorno alle ore 20.45. Sui monti dell'Alto Servio è il titolo della serata che si è tenuta invece ieri sera a Parre, promossa dal Comune e dalla Biblioteca e dall'Associazione del Testimone, dedicata ai sentieri, agli itinerari e alle bellezze delle nostre montagne, grazie al libro scritto dal clusonese Giorgio Rizzoli. Non una semplice presentazione del libro, ma anche una ricca panoramica fotografica del territorio, grazie alle numerose fotografie pubblicate e inedite scattate dall'autore in tanti anni in montagna. Tra le sorgenti più importanti del territorio bergamasco c'è la Nossana, una sorgente a servizio della città con portate e qualità dell'acqua importanti. Distribuisce infatti in media circa 600 litri al secondo e ha un bacino di utenze di circa 350.000 abitanti. Ci troviamo in una delle sorgenti più importanti della rete bergamasca. Sì, siamo negli impianti della sorgente Nossana, a Ponte Nossa, l'impianto è costituito dalla sorgente vera e propria, alle nostre spalle, in cui l'acqua sgorga, affiora e viene captata poi da un'iacque per poter essere distribuita alla rete idrica del territorio. Prima di essere distribuita ovviamente l'acqua viene monitorata, controllata e potabilizzata per poi essere incanalata nella dottrice, nella dorsale principale che corre fino alla città di Bergamo. Qui si parla di portate davvero importanti. Portate importanti, sì, che possono arrivare per la sorgente in quanto tale fino a 18.000 litri al secondo. Poi un'iacque ne può captare al massimo 1.000 litri al secondo e una portata media annua intorno agli 800 litri al secondo massima. Mediamente poi ne vengono captati circa 650 litri al secondo. Sempre garantendo un deflusso minimo vitale a questo fiume che poi alla fine si immette nel serio. Sì, per preservare l'ecosistema del torrente abbiamo l'obbligo e il dovere di garantire un minimo di deflusso vitale al fiume che è variabile in funzione dell'acqua captata. Ha un minimo, varia da un minimo di 160 litri al secondo per portate captate inferiore a 500 litri al secondo fino a un massimo di almeno 460 litri al secondo per le portate massime ammissibili da noi captate. E la qualità di quest'acqua è davvero importante? Sì, infatti la caratteristica conformazione carsica del bacino idrogeologico della sorgente permette di restituire un'acqua oligominerale e di qualità. E la Nossana è un bene importante per tutta ogni acqua? Ma sì, per ogni acqua e soprattutto anche perché è un bene prezioso che va conservato. Abbiamo la fortuna di avere un'acqua che scorre e sgorga dalla sorgente a oltre 11 gradi francesi costanti tutto l'anno e con un residuo fisso bassissimo. È un'acqua buonissima, di altissima qualità e il problema vero è far capire ai nostri clienti, utenti, cittadini bergamaschi, che è un'acqua che si può anche bere e non da usare solo per lavarsi. È evidentemente che è così importante che dobbiamo capire che abbiamo una condotta che può arrivare fino a 22 atmosfere e può servire non solo la città di Bergamo, i paesi di Premolo, Parre e Ponte Nossa, ma anche evidentemente tutti quei paesi di cui ne avranno e potranno averne bisogno. È una sorgente importante anche perché va conservata anche rispetto a quel patrimonio che noi abbiamo, soprattutto coperto dalle nostre montagne, che viene tutelata come nella cassaforte. E un approfondimento verrà trasmesso domani sera alle ore 19 all'interno di Target. E voltiamo a pagina. Il mondo dell'arrampicata sbarca in Alta Valle Seriana sabato 9 giugno e nel programma infatti Ardesio si blocca. Sabato 9 giugno con Ardesio si blocca, un'intera giornata dedicata all'arrampicata. Che cosa ci sarà nel centro del paese durante appunto tutta la giornata? Allora, per sabato abbiamo programmato Ardesio si blocca, un evento di street boulder. Prevede 45 blocchi nel centro storico. Questi blocchi sono praticamente delle linee da eseguire arrampicando su degli edifici. Chi riuscirà ad eseguire più blocchi riuscirà ad accedere alla finale che, a differenza degli altri blocchi, saranno dei sassi veri e propri portati qua in paese apposta per l'evento. È una cosa molto particolare perché non c'è nessuno street boulder, almeno a nostra conoscenza, che abbia come finale una finale sui sassi. Quindi penso che possa essere anche un gran richiamo. Oltre a questo ci saranno vari eventi collaterali, sempre legati all'arrampicata. Avremo per esempio due sessioni di yoga, ci sarà una zona per la slackline libera dove tutti potranno provare. Ovviamente bisogna essere un po' esperti per fare queste cose. Ci sarà una parete d'arrampicata, avremo una zona in cui si può provare una trave d'allenamento apposta per l'arrampicata, si chiama slackboard. E poi la sera incominceranno un'altra serie di eventi sempre legati all'arrampicata. partendo dalle 19 con uno spettacolo di slackline fatto da professionisti che faranno delle evoluzioni su questa slackline. È una fettuccia elastica che viene tirata da due punti e chi sa usare la slackline resta in equilibrio e fa delle evoluzioni, per esempio fa delle capriole, delle piroulette, cose particolari. A seguire ci sarà appunto la finale che è quella sui veri sassi e a seguire ancora ci sarà lo spettacolo di High Line che non è nient'altro che una slackline però apposta a un minimo di 10-12 metri di altezza. Ovviamente non potranno fare le stesse cose che fanno sulla slackline, lì la difficoltà sarà appunto riuscire a stare in equilibrio a questa altezza e fare tutta la traversata che sarà più o meno di 20-30 metri. A seguire inizierà la festa, quella un po' più, diciamo per tutti, la festa della birra con il concerto dei sushi cornocopia fino a mezzanotte più o meno faremo la festa della birra. Ricordiamo gli orari e anche i luoghi della manifestazione. Ok, allora la manifestazione inizierà alle ore 10, verranno aperte le iscrizioni. L'evento, quindi il contest dello street boulder durerà fino alle 17-17.30. Durante tutta la giornata però ci saranno, come dicevo, due sessioni di yoga, una alla mattina alle 11.30 e una al pomeriggio alle 15.30. Sono orari indicativi nel senso che magari potrebbe cambiare di qualche minuto la sessione in base alla disponibilità del maestro di yoga. Mentre, dicevo, alle 19 ci sarà la slackline, alle 20 la finale, alle 21 lo spettacolo di Highline e finito lo spettacolo, intorno alle 22 inizierà la festa della birra. La manifestazione si svolgerà soprattutto nel centro del paese, salendo verso la piazza di Ardesio, il santuario, la parrocchia. Ci saranno qualche blocchi un po' esterni, per esempio alle scuole o al Florida, ma soprattutto sarà in centro. Mentre il centro vero e proprio della manifestazione è al parcheggio X-Tennis dove ci sarà tutto. Parete d'arrampicata, festa, spettacoli, tutto quello, banchetti dal settore, ci saranno, tutto lì sarà. Ci fermiamo per una pausa tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ai campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera, che si disputeranno il 9 e 10 giugno a Jesolo, ci sarà anche un atleta dell'Alta Valle Seriana, Ahmed Uda. Allo stadio Picchi di Jesolo sono ottesi 450 atleti provenienti dalle 28 nazioni, aderenti alla MAU, Mediterranean Athletic Union, un'associazione che raccoglie i paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Ahmed, 21 anni di gromo, correrà nei 10.000 metri. Per Ahmed, nato in Marocco, ma in Italia, dall'età di 7 anni, questa è la seconda volta con i colori azzurri, da quando nel 2016 ha ottenuto la cittadinanza. Ahmed ha corso agli europei under 20 a Kia, in Sardegna, un mese dopo aver ottenuto la cittadinanza. Ahmed corre per la Casone Noceto ed è allenato da Pasquale Venditti. E restiamo in tema, un doppio appuntamento con la corsa in montagna durante lo scorso fine settimana in Valle Seriana. A Val Bondione si è disputata l'Orobie Vertical, mentre tra la Val Gandino e Clusone è andato in scena il trailer degli altipiani. La prima con la regia della Fly Up di Mario Poletti, la seconda organizzata dallo Sciclub Val Gandino. E partiamo dall'Orobie Vertical. Mario Poletti, si è conclusa l'ottava edizione di Orobie Vertical, dacci un bilancio. Ma più che positivo, il tempo ci ha premiato e siamo davvero davvero contenti per come si è svolta la manifestazione. Abbiamo avuto un parterre di altissimo livello, tanta gente sul percorso è quello che puntiamo noi soprattutto, perché per noi deve essere prima una festa della montagna, prima ancora di una gara. E quindi il risultato è pieno al 100%. Siamo pienamente soddisfatti noi del Team Fly Up. Come puoi descrivere in poche parole l'Orobie Vertical? Sì, è nata appunto otto anni fa, dopo aver smesso di fare l'Orobie Sky Raid, che era un impegno davvero oneroso e molto dispendioso. Ci siamo concentrati su questa valle per premiare soprattutto i rifugisti come Fabrizio e Silvana, che da sempre si rendono disponibili e ci danno una grossissima mano nell'organizzazione. Quindi Orobie Vertical è nata appunto otto anni fa così, purtroppo da due anni, e dedicata al nostro migliore amico, nonché fondatore di Fly Up, Danilo Fiorina, e penso che anche oggi abbia potuto darci una grossa mano anche lui dall'alto. È stato un omaggio a lui, anche alcuni atleti sono venuti proprio per ricordarlo. Esatto, ringraziamo tutti gli atleti dal primo all'ultimo e soprattutto i migliori amici di Danilo, come Paolo Savoldelli, Giuseppe Guerini e Migi Dio Burifa, che hanno voluto partecipare anche loro a questa manifestazione, ricordo, al nostro caro amico. Manuela Col, per il secondo anno consecutivo l'Orobie Vertical è tua? Sì, è il terzo anno questo che vengo all'Orobie Vertical, e colgo sempre molto volentieri l'invito di Mario, del mio amico Mario Poletti, e della gara che organizza lui con la Scott. Sì, sono molto contento di aver vinto oggi la gara. Il mio tempo è leggermente superiore agli scorsi anni, di circa una cinquantina di secondi, però sono contento, ho fatto il massimo. Noi ti abbiamo visto dall'elicottero, è stato uno spettacolo vederti superare tantissima gente sulla salita. Ma sì, partendo dal cronometro e partendo tra gli ultimi, si supera parecchia gente, e poi il percorso è molto bello, sulle rocce, soprattutto nella parte finale, penso che sia per chi corre che per chi guarda la gara sia molto spettacolare. Samantha Galassi, sei tornata all'Orobie Vertical e hai firmato un secondo successo. Sì, dopo cinque anni sono riuscita a tornare a gareggiare a questa bellissima gara e sono contenta di essere riuscita a vincere, con un tempo un bel po' più alto rispetto a cinque anni fa, ma in questo momento sono un po' carente in salita e infatti l'ho usata anche molto per allenarmi e avere la Corinna Ghirardi dietro che mi tallonava mi è servita molto per non mollare. Sono contentissima di essere tornata, ripeto, perché ci tenevo per Mario Poletti, che organizza sempre queste gare al top, per la Scott e anche per Danilo Fiorina, per cui è in memoria questa gara e ci tenevo a far bene. Tu che sei una specialista delle gare vertical, dacci una descrizione di questa. Beh, questa è una delle gare più impegnative che ci siano, penso, in giro, perché a parte la prima parte in asfalto, poi è tutta molto impegnativa, sale sempre, non molla mai, salvo qualche metro di discesina, ma è proprio quasi nulla e quindi è sempre da tenere la concentrazione e le gambe sempre in spinta. Il trail degli alti piani alla sua seconda edizione ha richiamato complessivamente circa 570 atleti. La prova sulla lunga distanza di 61 chilometri e con 3.400 metri di dislivello è stata vinta da Fabio Di Giacomo, mentre per le donne ha vinto Melissa Paganelli che è andata a avvissare il risultato dello scorso anno. Nella gara più corta di 31 chilometri e 1.700 metri di dislivello, successo di Alessandro Norris e Giulia Zanotti. E questa sera alle ore 20.30 torna in onda la rubrica di pareri ed opinioni locali del sasso nello stagno a cura del nostro. Toni Tranquillo. Questa sera alle 20.40 tornerà su Antenna 2 TV l'appuntamento con il sasso nello stagno. Argomento della serata da Ponte Nossa, lo stato delle nostre strade e soprattutto limiti di velocità abbassato sulla superstrada in zona Albino. Tutte le interviste raccolte, ripeto, qui a Ponte Nossa al mercato. Non perdete le interviste, ve ne offriamo una in anteprima. Hanno diminuito le soglie di velocità, i limiti? Sulla superstrada Serie A e Nembro. Sì, 70 chilometri all'ora. Sì, e poi c'è il 90 qui dove è più stretta. Mi ha capito perché. No, adesso su quella strada l'hanno uniformata. No, ma qui in valle ci sono certi punti dove è più stretta di là. Sì, quello è vero. C'è il 90, la logica non lo so. Perché l'hanno fatto? Oh, che ne so io. Per la sicurezza. Eh vabbè, ma allora andiamo a 40 all'ora dappertutto. È ancora più sicuro. Le riesce a mantenere i limiti? Riesce a mantenerli? Devo dire di sì perché. Ok, o un po' indisciplinato. No, non sono poi tanto indisciplinato, ce n'è chi peggio di me. Ok, quindi le capita di vedere sorpassi azzardati? Sì, sì, sì. E ora continuiamo con la rubrica Qua la zampa a cura del veterinario Stefano Gusmini. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qua la zampa. Parliamo del picchio. Questa è sicuramente una stagione in cui, se amate fare qualche passeggiata nei nostri boschi, potreste sentire il tambureggiare del picchio. Innanzitutto ci sono tre diversi picchi che abitano nei nostri boschi. Il picchio rosso, il picchio verde e il picchio nero. Tutti questi picchi comunque hanno sul capo, sulla testa, una piccola macchia rossa. Alcuni, quando sono più giovani, hanno tutto il capo rosso e quindi la caratteristica è proprio che li distingue dagli altri uccelli. È difficile da avvistare il picchio perché ha proprio l'abitudine di stare molto appiccicato al tronco alla ricerca di cibo. La caratteristica è proprio questo becco molto robusto, con dei muscoli del collo molto forti e la capacità di scavare nel legno sia i nidi ma anche dei buchi per cercare cibo. Come fa il picchio a cercare cibo? Proprio scavando nel legno tendenzialmente di piante morte, di piante che ormai ospitano insetti e larve, ha una lingua molto lunga, lunga due volte la lunghezza al diametro del cranio e viene alloggiata, proprio si trova all'interno della testa, in una specie di astuccio. Questa lingua, molto lunga, ha come dei piccoli uncini alla sommità ed è in grado quindi, una volta che il picchio ha scavato il buco, di acchiappare le larve all'interno dei tronchi del legno e in questo modo il picchio si trova il cibo. Il picchio verde, ad esempio, prende di mira i formicai e appunto con questa lingua lunga riesce anche a scavare nel terreno all'interno dei formicai per procurarsi le larve. La cosa più caratteristica che potete sentire nel bosco è proprio il tambureggiare. Questi sono segnali che i maschi danno proprio per richiamare le femmine e per indicare agli altri picchi di non avvicinarsi perché quello è un territorio già occupato da un maschio. Se andate nei boschi in questi giorni, nei boschi soprattutto quelli più lontani dalle case, e quelli più difficili da raggiungere, ascoltando bene potreste sentire proprio questo tipico rumore del picchio. Per questa puntata è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima con Quala Zampa. Arrivederci! Ci fermiamo per una pausa tra poco. Eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle ore 20.40 trasmetteremo il Sasso nello Stagno. Torne tranquillo, è stato a Ponte Nossa e si è occupato, come abbiamo appena sentito, dei limiti di velocità sulla strada provinciale della Valle Seriana. Alle 21.30 trasmetteremo la rubrica di Sport Hard Track, alle 22.00 la rubrica più Salute News, alle 22.15 la rubrica 15 minuti, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.10 il programma musicale Colpa d'Alfredo, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale che tornerà in onda anche alle ore 21.30, ma sul canale al numero 218, mentre sul 628, quindi il canale sportivo, alle 20.30 trasmetteremo la rubrica di Sport S4 Sport Hard Door, mentre alle 21.00 la partita di calcio Vertovese-Casazza. La Manacco per domani, mercoledì 6 giugno, il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 21.12. Il culmine è alle ore 13.19, la durata del giorno è di 15 ore e 47 minuti. La luna sorge alle 1.48 e tramonta alle 12.38, la fase lunare alla luna è calante ed è visibile alle 55%. La Chiesa ricorda San Norberto Vescovo. Ecco le previsioni del tempo, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino con tendenza graduale intensificazione della copertura a cui saranno associati rovesci temporali piuttosto diffusi dalle ore centrali su tutti i settori della nostra regione. Le temperature in lieve aumento. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.